Il Gran Sasso Science Institute in un'importante missione spaziale, ce ne parla Antonio Monaco. La missione spaziale d'Ampe ha rivelato proprietà finora sconosciute dai raggi cosmici galattici, particelle subatomiche provenienti dallo spazio che colpiscono la Terra a un ritmo incessante, alcune centinaia al secondo per ogni metro quadrato di superficie a livello del mare. Alla scoperta ha contribuito anche il Gran Sasso Science Institute con un gruppo di ricercatori, membri della collaborazione internazionale. Il satellite d'Ampe in orbita intorno alla Terra dal dicembre del 2015 ha ottenuto la prima misura diretta con un livello di accuratezza mai raggiunto in precedenza del flusso di raggi cosmici fino a energie elevatissime. Sorgenti astrofisiche ancora poco conosciute riescono ad accelerare particelle cariche sino ad energia a milioni di volte maggiori di quelle raggiunte dai più potenti acceleratori costruiti dall'uomo. Sentiamo Ivan Dimitri, responsabile del gruppo D'Ampe al Gran Sasso Science Institute. Ecco, noi abbiamo studiato il flusso di raggi cosmici, in particolare di protoni, di energia molto alta, anche molto superiore rispetto a quella raggiunta dagli acceleratori costruiti artificialmente, per esempio l'HC a Ginevra. Abbiamo visto che c'è un brusco calo del flusso di queste particelle a una certa energia molto elevata, cosa in attesa che richiederà un lavoro teorico sui meccanismi di accelerazione di queste particelle a quella energia. Ci sono problemi per il genere umano? No, assolutamente no, questa è una radiazione che esiste da sempre, la vita si è sviluppata sul nostro pianeta in queste condizioni, fortunatamente l'atmosfera e anche il campo magneto terrestre ci proteggono. Il contributo italiano alla realizzazione e alla conduzione dell'esperimento è stato determinante. Gli scienziati italiani hanno collaborato con i colleghi cinesi e svizzeri nella progettazione, costruzione e messa a punto dell'apparato ed hanno coordinato i test dei rilevatori sia di laboratorio sia su fasci di protoni, elettronici e ioni presso gli acceleratori di CERN a Ginevra. Grazie a tutti!